Sì, secondo me abbiamo fatto un po' troppi errori noi, soprattutto in battuta. Comunque è una squadra che può dare fastidio, hanno giocatrici forti. Siamo state brave a essere calme, a ritrovare il nostro gioco e essere decisive nel momento giusto. Ma innanzitutto grazie. Sono anche un po' emozionata di tornare qua perché sono stati i miei primi anni in Italia quindi ero ancora una bambina diciamo e quindi sono contenta della partita e di questi tre punti.